La sintomatia di evoluzione, insomma, non bisogna a volte pensare troppo, magari se penso agli accordi di questo pezzo, al giro, come costruito, forse non mi piace più, se lo vado ad analizzare, se lo sento così, in maniera eterea, mi dà una sensazione, l'arrangiamento, il piano sonoro, l'abbillimento, eccetera, eccetera, forse me lo prendo di più senza pensare troppo. Attenzione, se io penso troppo, poi è un po' la fine, ecco, comunque andiamo avanti, sempre con Richard Benson, sempre ottava nota, in questo momento più riflessivo, questa seconda parte, adesso un chitarrista idolo americano suona nei club, è andato George Benson una sera in club, ha detto ammazza, questo è veramente spaventoso, mi ha fatto veramente paura, e George Benson è un grandissimo, grandissimo chitarrista, ormai da parecchi anni, nonostante la sua duplice faccia di fare poi un genere più semplice, però come chitarrista jazz, George Benson, devo dire, è sempre un grande chitarrista, tuttora, veramente fa spavento, quando vuole fare il serio, ma molto professionale, anche nelle cose più semplicistiche che fa, si sente sempre il grande mestiere, dietro anche le cose più semplici, devo dire, tu puoi fare anche una nota, però si sente dietro il mestiere della nota, è come, beh, è un grosso discorso, un po' difficile da spiegare solo e unicamente col verbo, si chiama Tony Purrone, andiamolo a sentire insieme. Grazie. Grazie.